Il caso è prima di tutto uscito sui social network, in particolare sul gruppo 6 di Arezzo se noi l'abbiamo raccolto ci troviamo nella strada che si chiama strada B di San Zeno siamo praticamente nei pressi dell'ippodromo retino che tutti noi conosciamo sopra questo ponte però la situazione è veramente allarmante vedete che intanto l'asfalto è completamente rovinato sono delle buche, come vedete pezzi di asfalto che sono sostanzialmente a intermittenza ma la buca un pochino più importante è da questa parte dove addirittura ci sono dei ferri del ponte che sono in evidenza questa è una buca veramente importante io ci infilo la mano per farvi vedere più o meno l'altezza, insomma quasi l'altezza delle dita insomma è veramente molto molto pericolosa non solo per le auto ma anche e soprattutto per i ciclomotori ecco una buca simile a quella che abbiamo trovato dall'altra parte c'è anche di qua, anche qui è veramente molto alta vedete ci possiamo infilare un piede e arriva più o meno all'altezza della caviglia e anche qui si vedono i ferri questo è un cavalcavia che sovrasta la E78 quindi la Due Mari insomma proveremo a chiedere innanzitutto di chi è la competenza di questa strada che ricordiamo è la strada che si chiama secondo Google Map strada B di San Zeno e soprattutto perché viene lasciata insomma in queste condizioni secondo i cittadini che ci passano appunto sopra in queste condizioni da diversi anni